Allora ragazzi, sono all'aeroporto di Tirana, per chi mi chiede, no, non è molto grande, ok, magari rispetto agli internazionali no, però adesso vi faccio vedere tutta la nuova parte che prima non c'era, ok, seguitevano. Allora adesso il check-in l'hanno messo tipo elettronico, quindi una volta che ai banchi tu fai il biglietto, passi, faccio vedere, ok, si aprono le porte e si sale al primo piano, dove ci sono le scale mobili che prima non c'erano, saliamo le scale mobili. Finite le scale mobili ci troviamo al controllo documento, controllo bagagli scusatevi prima, dove c'è il super mega serpentone, quindi questo è tutto il primo piano, faremo avanti dietro, avanti dietro, avanti dietro, finché non ci troveremo al controllo bagagli. Passati oltre il controllo bagagli, vi faccio vedere cosa c'è. Allora, una volta che si fa il controllo dei bagagli, si va al controllo passaporti, però adesso non posso visionare perché è vietato a fare i filmini. Dopodiché io ho fatto la scansione del passaporto perché avendo il passaporto elettronico ce l'ho fatta. E quindi adesso ho avuto l'accesso, qua si vede l'aeroporto visto dall'alto che ragazzi non è grandissimo, ma rispetto a quello che ricordavo io è diventato tutto questo. Questo è il nuovo aeroporto di Tirana.